Buona domenica a tutti, siamo giunti alla quinta domenica di Quaresima, ormai siamo prossimi al tempo della Settimana Santa, ve ne diciamo Dio Padre e il suo Figlio Gesù, il nostro Redentore che ci permette di vivere questi giorni di salvezza e offriamo con forza la nostra preghiera ricordando in particolare chi sta soffrendo di più per questa epidemia. Vi invito a tutti a partecipare oggi alla messa, ricordo in particolare la messa che celebrerà il Patriarca alle ore 11, la celebrerà nella cripta di San Marco ma sarà possibile seguirla tutti attraverso la televisione, in particolare la si trova mi pare al canale 13 della televisione. Tutti quindi sarete invitati anche ad ascoltare un'omelia sul Vangelo di oggi che però io presento come filo narrativo per cogliere la ricchezza del segno che Gesù ha compiuto. Infatti in questa domenica noi ascolteremo la Resurrezione di Lazzaro, un brano molto lungo, 45 versetti, ma molto ricco e molto forte per la nostra fede. Il brano si apre con la notizia che Gesù non è più a Gerusalemme ma si è allontanato perché i iudei cercano di ucciderlo dopo il miracolo che ha compiuto liberando il cieco nato e aiutandolo a ritornare alla vista. La seconda notizia che apre il racconto è che Lazzaro è ammalato. Lazzaro è un amico di Gesù, abita a Betania, un paese a tre chilometri da Gerusalemme. Abita insieme con due sorelle, Maria e Marta. Una di queste, Maria, diventa famosa perché sarà quella che butta dell'olio sui piedi di Gesù e gli asciuga i capelli e i piedi con i suoi capelli. Gesù andava spesso a casa appunto di Lazzaro, Marta e Maria. Il racconto, dopo aver sottolineato questa situazione, descrive la reazione di Gesù e vedremo che la reazione di Gesù è sempre diversa da quella che noi ci saremmo aspettati perché nel momento in cui Lazzaro, l'amico, si ammala, le due sorelle pensano, chiamiamo Gesù, lui ha compiuto delle guarigioni, verrà certamente a sanare il suo amico e quindi le sorelle mandano a dire signore il tuo amico è malato. Allo dire questo Gesù che cosa risponde? Beh, noi avremmo potuto pensare che Gesù immediatamente si avvia ad andare a trovarlo, invece dice ecco questa malattia non è per la morte ma è per la gloria, cioè questa malattia sarà l'occasione per mostrare che io sono l'inviato di Dio e poi invece di partire si ferma, lascia passare due giorni, poi disse, passati due giorni, andiamo di nuovo in Giudea, lo dice ai discepoli e anche qui i discepoli reagiscono a questa scelta di Gesù, ma come vuoi andare in Giudea? Lì ti uccidono? Ancora una volta Gesù sceglie non secondo il criterio che sarebbe ovvio se uno vuol salvare la vita, non va dove vogliono ucciderlo, eppure Gesù si muove e spiega perché questo è il tempo della luce, è il giorno in cui io devo agire, cioè è il tempo della mia missione, è il tempo in cui io devo portare a compimento le opere che il Padre mi ha dato da fare. Quando verrà la notte, quando sarà il momento in cui non agirò più, quando ci sarà la sua passione, allora sì, io lì non porrò più dei segni, diventerà la mia vita segno della gloria del Padre. Quindi parte e anche colpisce in questa scena in cui Gesù è con i discepoli la frase che dice, ecco Lazzaro dorme, a quel punto ancora una volta i discepoli si muovono in maniera diversa da quella che Gesù pensa perché loro credono che con questa frase Gesù dica che ormai Lazzaro sta guarendo, invece Gesù allora esplicita no, è morto. E anche qui la frase che Gesù dice accompagnando la notizia della morte dell'amico è strana, dice io sono contento di non essere stato là, perché così questo evento triste, questo dramma della morte dell'amico diventerà occasione perché voi crediate, andiamo da lui. La scena si sposta e Gesù arriva vicino a Betania, non entra nel villaggio ma è la sorella che è sentito dalle tante persone che gli sono andate a trovarla, a fare il luto con lei, ecco da loro ha sentito che è arrivato Gesù, allora Marta corre incontro a Gesù, ma corre per fargli un rimprovero. Le prime parole che Marta dice a Gesù, signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Sì, perché ti comporti in questa maniera? Poi in realtà Marta spera ancora e dice so che qualunque cosa chiederai a Dio egli te la concederà ed ecco la sorpresa. Gesù gli risponde tuo fratello risusciterà, al che Marta dice sì so che c'è una vita, ciò che in fondo non si muore, c'è qualcosa che anche al di là, ecco alla fine dei tempi, forse un po' come tante persone che anche non credono in Dio, ma forse pensano sì ci sarà qualcosa dopo, ma qualcosa di incerto, di sfumato, che non rasserene la vita qui. Invece Gesù dice a quel punto una frase fortissima, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà. Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me vivrà, non morrà in eterno. Ed ecco la sfida, credi tu questo? E lei presa dalla fuoga dice sì o Signore io credo che tu sei il Cristo, in realtà non dice sì credo che tu sei la risurrezione, credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che deve venire nel mondo. E vedremo che questa fede di Marta non è ancora realmente radicata nel suo animo. Quando Gesù le dirà dai apriamo la tomba, lei si opporrà, non crede veramente che Gesù sia la vita e chi crede in lui non muoia, perché è talmente fuori dall'esperienza questa frase. E cerchiamo di capirla appunto nel proseguo del racconto, perché Gesù dopo aver incontrato Marta fa chiamare anche Maria l'altra sorella, quella che è appassionata, che lo ama con forza, che gli butterà appunto l'olio sui piedi. Marta arriva e la sua frase è solo un rimprovero, come Maria dice Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, è la seconda volta che viene fatto questo rimprovero, che in fondo rappresenta quel rimprovero che facciamo spesso anche noi a Dio. Ma perché accadono queste cose? Se tu fossi veramente Dio buono non dovresti farci provare questo lutto? A quel punto avviene una sorpresa. Gesù quando vede piangere Maria e anche le altre persone si commosse profondamente, si turbò e disse voglio andare a vedere dove la avete deposto. Ma quando gli dicono sì vieni a vedere, Gesù scoppiò in pianto, Gesù si commuove, Gesù piange. Anche qui la reazione al pianto di Gesù è duplice. Da una parte alcuni dicono vedi come lo amava, ma alcuni dissero proprio perché Gesù mostra quanto lo amava. Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questo non morisse la terza volta che si rimprovera Gesù. Ma perché ti comporti in questa maniera? È strano, un Messia, un figlio di Dio che piange. Noi vorremmo un figlio di Dio che ci togliesse il pianto, non che piangesse con noi. Invece Gesù sceglie questa strada, sceglie di immergersi nell'esperienza umana anche quella segnata dal pianto, dal dolore. Non si vergogna di piangere. Quando giunge al sepolcro Gesù dice una frase che ancora una volta viene ostacolata. togliete la pietra. Ma perché vuoi togliere la pietra? Dice Marta. Già manda cattivo odore. È lì da quattro giorni. Ecco, ancora una volta ciò che Gesù chiede non viene capito. E Gesù allora gli risponde guarda che ti ho detto che se tu credi, te l'ho detto prima, credi tu. Se tu credi vedrai la gloria di Dio, Dio che si manifesta anche lì dove si piange. Allora tolsero la pietra. Gesù fa una preghiera al padre dicendo, so che sempre tu mi ascolti, ma questo segno lo faccio perché loro credano. E poi credò a gran voce, Lazzaro, tieni fuori. E il versetto è molto forte. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti in bende e il volto coperto da un sudario. E Gesù disse loro scioglietelo e lasciatelo andare. Ecco la sorpresa. Realmente Dio è più forte della morte. È più forte della pietra del sepolcro. Lo fa aprire. Ed è evidente che questo segno che si conclude con queste parole di Gesù. Scioglietelo, lasciatelo andare, lasciatelo camminare, lasciatelo proseguire nella sua vita. Non sia più legato dalle bende, non sia più legato dalla immobilità del sepolcro. Ecco questo segno ha un valore fondamentale perché richiama quella esperienza che Gesù stesso farà. Gesù scenderà nel sepolcro. Anche su di lui una pietra verrà a coprire l'entrata del sepolcro e tutto sembrerà finito. Sarà il nostro sabato santo, il giorno del silenzio. Ma questo silenzio sarà rotto dall'annuncio pasquale. Gesù è risolto. Non è più nel sepolcro. È colui che è vivo, che cammina, che incontra di nuovo i suoi discepoli. E comprendiamo allora perché Gesù non ha guarito prima Lazzaro. Perché Gesù non è venuto per togliere le nostre sofferenze, le nostre prove. Le ha vissute anche lui. È venuto per dare un senso e una speranza. È aprire la porta decisiva, quella che è la porta fondamentale, quella della vita eterna. E ci invita realmente, ci invita a rispondere alla domanda. Credi tu questo? Credi che io sono venuto per realizzarti, per liberarti dalla paura della morte, per aprirti alla speranza della vita, per dare un senso alle tue lacrime, per dare un senso alla tua fatica, per farti camminare. Lazzaro cammina sciolto dalle bende, va verso la vita, verso una vita che potrebbe essere uguale a quella di prima, segnata ancora dalla morte. C'è un romanzo che parla di Lazzaro e dice in fondo non è stato tanto fortunato perché è stato un uomo che è morto due volte, ma nell'ottica del Vangelo questo cammino è ormai il cammino di chi è stato sciolto dalle bende e cammina certo verso la fine della vita, ma sa che quella non è la fine, che non si muore se si crede in Gesù. C'è una bellissima espressione di una donna che ha sofferto tanto, che alla fine è morta per un tumore, ma che diceva siamo nati per non morire più. Questa è la rivelazione che oggi il Signore ci dona e se non ci esime dal pianto e dalla sofferenza, ci apre però la forza di chi sa che può camminare verso la vita che non ha figo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.